Ciao a tutti, faccio questo brevissimo video, scusandomi perché sono in pigiama, ma stamattina mi sono alzata dal letto, mi sono lavata e ho rimesso il pigiama, perché fa freddo e non ho voglia di stare vestita, non è in tuta, non ha senso, quindi preferisco stare in casa comoda. Faccio questo breve video, come vi ho detto, perché Valentina, nell'ultimo ordine fatto sulla mia truccheria, mi ha inviato in regalo, me l'aveva già anticipato, un bronzer della Puro Bio, che purtroppo non poteva vendere perché si è frantumato. Io l'hanno inviato così e si è frantumato, ho detto mandamelo tanto io, li utilizzo perché quando sono così si rompono i fard, i blush, io tendo a farci dell'altro, li riciclo in poche parole. Siccome io non uso bronzer, come sapete bene, perché io sono iper iper super chiara, quindi non ha senso per me usare il bronzer, non mi piace, io ci farò una ciprea barra fondo minerale. Io ho già fatto il fondo minerale, trovate il video tra i vecchissimi, i miei primissimi video di sei anni fa, sette anni fa, sì più o meno, in fondo ai video. Quindi se lo volete cercare, lo trovate giù in fondo ai video. Però in quel caso ovviamente io ho utilizzato i colori, le polveri, i colori minerali, per fare ossido giallo, ossido rosso e ossido blu. In realtà qui io farò, non li userò perché ci sarà questa qui, che siccome io voglio schiarirla perché voglio farla diventare una ciprea barra fondo minerale, non ha senso che io metta anche i colori, perché? Allora, cosa ci serve? Io ovviamente in questo caso non userò il biossido di titanio né l'ossido di zinco perché si tratta di una ciprea che già contiene queste cose, di un bronzer che già contiene queste cose. Quindi mi limiterò per schiarire questo bronzer, quindi per andare a fare il mio fondo minerale, ad utilizzare quello che ho in casa, ossia argilla bianca e amido di mais. Si può usare anche, anzi normalmente si tende ad usare l'amido di riso, perché l'amido di riso nel frattempo il cane si strozza, Scusate, c'è blitz che si sta strozzando, blitz? Si sta strozzando blitz. Dicevo, normalmente si usa l'amido di riso perché ha un... scusate, perdonatemi, ma lui praticamente cosa fa? Tende a leccarsi le zampine e quindi poi gli vanno i peli di traverso e si strozza, niente di che. Dicevo, io normalmente si usa l'amido di riso che è più sottile e più sebo regolante, coprente, ecco. Mentre l'amido di mais però è un po' più... meno raffinato, ecco. Però ha una particolarità, è sebo regolante, quindi è sebo assorbente. Io lo preferisco all'amido di riso, l'amido di riso lo trovo meno impalpabile, quindi più grossolano, ecco. Io preferisco l'amido di mais, poi ognuno usa quello che vuole. Tra l'altro l'amido di mais si presenta come una farina, quindi è leggerissimo. Metteremo 9 grammi di caolino, che è l'argilla bianca, questa qua io la prendo su Aroma Zone, e 21-22 grammi di amido di mais. Dipende da quanto... cosa ci serve anche il bilancino di precisione. Questo fa schifo, è quello che uso per fare le ricette, quindi è sporco, fa... è una schifezza, veramente. Io utilizzo i contenitori così, praticamente sono dei contenitori forati, questo non è sporco, in realtà c'era la vecchia cipria che ho finito da poco, ecco il coperchio. Uso questi contenitori qua, che sono molto comodi, li prendo su Aroma Zone. Allora, sulla bilancia che noi adesso accendiamo, potevo anche non accenderla perché tanto... Allora, questo devo fare molta attenzione, infatti adesso mi poggio sui fazzoletti, perché essendo così distrutta, purtroppo, infatti, voleva... Essendo così distrutta, questa era, è praticamente una... come si dice, è una pot, quindi un refill. Ed essendo così distrutta, devo fare molta attenzione, perché... Purtroppo si è devastata. Chi spedisce non capisce che... certe cose andrebbero trattate con una certa delicatezza, perché altrimenti si devastano. Allora... vedete, è tutta distrutta... si è proprio devastata... d'altronde... prendo il mio cucchiaio... questo è un cucchiaio di plastica che io uso per le ricette... Allora, purtroppo, come dicevo, chi spedisce i... quindi i... i corrieri, ecco, che si occupano di trasportare marce, non capiscono che non trasportano... cioè, trasportano della roba che se non la tratti bene si rompe, cioè, non è proprio... in realtà, allora, se io usassi la terra, l'avrei compattata con l'alcol alimentare, quindi avrei messo dell'alcol alimentare per riparare il danno, però, siccome io non uso terra, assolutamente, perché non la uso, non mi piace, non faccio contouring, non... ecco, ok, adesso è tutta, come vedete... e in totale è 11 grammi... 11 grammi... ora, rilavo il... pulisco il cucchiaio nuovamente con la salvietta umida per evitare di sporcare il caolino... e aggiungo 9 grammi di... metto in tara... e aggiungo 9 grammi di argilla bianca... volgarmente detta argilla bianca, ma si chiama caolino... allora, io lo aggiungo lentamente... per evitare... allora, l'argilla bianca, ovviamente, è molto, molto... impalpabile... perché questo è il suo lavoro... è un aderente... serve a fare presa... ok... e sono 6... scusate se passo con la mano davanti alla telecamera, ma... ok... e sono 9... cioè... ho preso praticamente... sono un mito... e... in questo momento adesso comincio a schiacciare... allora... in teoria io poi... le polveri le passo al macinacaffè... in modo che... in modo che... rimangano... ehm... rimangano più... ehm... scusate mi sfuggono le parole... rimangano più... ehm... impalpabili... quindi siano più impalpabili... anche perché... ehm... anche se sono... ehm... anche se sono già... ehm... setacciate... tendono a fare comunque grumetti... quindi io alla fine... è un passaggio che non vedrete... ma... la passerò al macinacaffè... a manovella ovviamente... perché io c'ho quello là che è tanto comodo... o altrimenti se avete un mixer... però è un mixer... dovrebbe essere un mixer che è utilizzato esclusivamente per cose estetiche... proprio perché... certe polveri purtroppo... soprattutto quando utilizzate i coloranti... quindi... ossido blu... ehm... ossido rosso... tendono a macchiare il contenitore... quindi... poi non è il massimo della vita... utilizzarlo per il cibo... allora adesso ve la faccio vedere... ovviamente... ancora... è... da aggiungere il... questo... con questo... roba... viene circa... 50 grammi... più o meno di... di cipria... ci fate un sacco di tempo... adesso vi faccio vedere quante... quante... è tanta... non è... non è pochino... ok... adesso io sto schiacciando perché... devo fare... ovviamente... devo rompere ovviamente tutte le... eh... le parti della... eh... del... del... bronzer... che si erano... ehm... erano compatte... ora vi faccio vedere... ecco... allora questo... questo è il risultato... vedete... è ancora... eh... un po' scuretta... quindi io... devo ancora aggiungere l'amido... di amido... eh... eh... ne aggiungerò inizialmente solo 10 grammi... modo da... ne aggiungerò solo 10 grammi... modo da... in modo da avere... ok... lo faccio piano piano... perché? perché non voglio... ehm... non voglio esagerare... schiarire troppo... perché altrimenti diventerebbe... una roba tipo... allora... questo amido di maestro io lo tengo sempre in casa... per i dolci... quindi fondamentalmente io cosa faccio? non ci metto il cucchiaio perché... ecco... è molto impalpabile... ok... adesso... vado in tara... di nuovo... la... il bilancino di precisione è molto utile... io ci faccio tantissime cose... va in tara? maledetto... zero... ok... ok... troppo... fa niente... lo tiro fuori... lo tiro via così... ecco... ne ho aggiunto circa 10 grammi... purtroppo ne è caduto un po' troppo... ma non è importanza... adesso poi me lo andrò a riprendere se mi serve... e come vedete... il... l'amido di mais è impalpabilissimo... e vediamo se è sufficiente a 10 grammi... altrimenti ho qui un altro contenitore dove... metto le eccedenze quando... quando mi succedono questi incidenti perché sono un disastro... l'amido di mais... io lo gradisco molto di più dell'amido di riso... perché secondo me l'amido di riso ha poca aderenza... io ho provato a fare le due ricette diverse... tra amido di riso e amido di mais... e ho preferito quello di mais... perché secondo me nelle zone che si lucidano di più... quindi la zona T... quindi fronte, naso e mento... è molto 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 più sebo regolante... cioè... mi sono sporcata... sono un disastro... scusate... secondo me va già bene... secondo me va già molto bene con 10 grammi... allora io era molto... era parecchio spignatto... che poi questo non è vero e proprio spignatto... perché lo spignatto vero e proprio... presuppone quindi... la bollitura degli ingredienti... presuppone altro... questo non è vero e proprio spignatto... questo è un... così... tanto per non buttare una roba che è ancora buona... e poterla riciclare tutto qua... allora io sto schiacciando tutti i grumi... così da cercare di capire se posso evitare di passarla al... di passarla al macina caffè... anche perché il problema di passarla al macina caffè... è che poi il macina caffè va pulito ed è un incubo... perché essendo quello manuale... non lo posso ficcare sotto l'acqua... perché ha la parte esterna in legno... quindi... ci sarebbe un gran casino... quindi io schiaccio tutti... tutti i grumettini... come è andato questo fine settimana... l'ultimo fine settimana delle feste... oggi è lunedì... e ora si rientra a fare la solita vita... ok... allora siccome è ancora un po' troppo scura... aggiungo... un altro po' di... amido... ma proprio poco poco... che più che adesso più che una cipria... questo è una sorta di fondotinta minerale... ok... eccolo qua... non so se lo vedete... adesso... ok... ho schiacciato tutti i grumettini... proprio per... fare un lavoro più sistemato... e non ci sarà bisogno di... passarlo alla... al macina caffè... perché... mi sembra che sia più che... sciolto... cioè... è... è bene... ben setacciato... quindi adesso io finisco di... controllare bene tutti... schiacciare ben benino tutto... ma mi sembra che siamo... ormai... al posto... sì... ci siamo... ok... ed è venuto circa... 56 grammi di prodotto... e ci farete un bordello... perché praticamente io... ehm... io quando faccio... ehm... le ciprie... i fondotinta minerali... io... da me... fai da me... mi durano tipo un casino... tipo un casino... ok... adesso vi sollevo per vedere se riesco a... farvi... vedere... ok... e questo è il... cosa ci fai tu lì su... vieni qua... ok... questo è il fondotinta... fondotinta... barra... ehm... cipria minerale... riepilogo... per... allora... riepilogo... piccolo riepilogo... per chi... ehm... intende farlo... allora... se volete partire da zero... quindi senza... ehm... senza... nel frattempo pulisco qua da... sì sì... lo so che stai... se volete partire da zero... quindi senza avere una terra rotta... che è anche... ehm... ehm... è anche meglio... perché comunque avete il modo di scegliere il colore più chiaro più scuro... qui... potete solo andare a schiarire fondamentalmente... se volete partire da una... ehm... da... quindi... se mi fa tempo io qua chiudo perché altrimenti... ok... basta procurarsi... ossido giallo... ossido rosso... e... ossido blu... che sono i coloranti... ehm... gli ossidi coloranti... c'è anche chi... io l'ho fatto... e so che funziona... perché l'ho fatto... usa i coloranti alimentari in gel... ovviamente quello che dovete fare una volta che decidete di utilizzare i coloranti in gel... è sapere che poi questa polvere andrà fatta asciugare... perché... un minimo di umidità... ovviamente... queste coloranti in gel rilasciano... quindi cosa fate... andate a... ehm... andate a prendere questi... ossidi... questi coloranti in gel al supermercato... si trovano ovunque... e li aggiungete... pian pianino... mischiandoli alla quantità... di polveri... quindi... normalmente cosa si usa? si usa... ossido... biossido di titanio... ossido di zinco... uno dei due... non tutti e due... uno dei due va più che bene... caolino... quindi argilla bianca... e amido di riso o di mais... io ho evitato l'ossido di zinco... l'avevo in casa ma è scaduto nel 2016... quindi... fondamentalmente evito di utilizzarli... perché... si è vero... sono polveri... si è vero... ma sono sempre ossidi... quindi... andarle a utilizzare quando sono scaduti... è meglio evitare... quindi... di ossido di titanio... eh... ossido di zinco... in... quantità di... 9-10 grammi... caolino... e 20 grammi circa di amido... o di riso o di mais... e poi... i vostri coloranti... coloranti come si aggiungono? piano... lentamente... per evitare di... se scurite troppo... poi è un casino... quindi... cosa fate? cominciate con... l'ossido giallo e l'ossido blu... se volete fare... un fondotinta minerale... aggiungete quello rosso... e... piano piano... vi dosate... io non vi so dare una quantità... perché dipende da quello che volete ottenere... se volete ottenere una terra... dovrete ovviamente scurire... quindi utilizzare più... coloranti... più ossidi... se invece volete ottenere un blush... dovrete dosare... più ossido rosso... perché... così da ottenere il blush... io per i blush però... preferisco utilizzare... le... i coloranti in polvere... che sono... ehm... le miche... quindi... preferisco utilizzare... che so... la mica arancio... la mica fucsia... ne ho tantissime io... anche perché è parecchio che non faccio blush... anche perché... momentaneamente preferisco comprare quelli già pronti... però... ci sono tantissime miche... se... andate a guardare il mio video... uno dei miei video precedenti... lì li vedrete utilizzati... ehm... io preferisco sinceramente la mica fucsia... perché è bellissima... secondo me dà... un colore stupendo... quindi più che... gli ossidi... quindi giallo, rosso e blu... dovrete utilizzare le miche... per ottenere i... ehm... il blush... ehm... dovrete utilizzare... dovrete utilizzare... ehm... meno... ehm... meno... caolino... e più ossido di zinco... però questo magari ve lo faccio in un altro video... perché... perché nel frattempo c'è Divo che sta cercando di salirmi addosso... però questo magari ve lo faccio in un altro video... perché magari... altrimenti vi confondete... quindi se avete un bronzer che volete riciclare... perché si è rotto... perché non vi piace più... se avete un bronzer che volete riciclare... come fondotinta minerale o cipria... potete utilizzarlo... per fare quello che ho appena fatto io... io spero di essere stata chiara... se avete domande... scrivetemelo giù nell'info box... vi lascio sempre giù nell'info box... il link al mio gruppo facebook... iscrivetevi... perché io lì molto spesso pubblico ricette... per esempio ho pubblicato di recente... la mia ricetta homemade... per le maschere ristrutturanti per i capelli... perché molto spesso non sto lì a fare video... preferisco fare una ricetta... e pubblicarla direttamente sul gruppo... io vi saluto... vi ringrazio... al prossimo video... ciao!